12 decessi alla Madonnina, 14 a Casasterni, 23 nelle due strutture ISAC comunali Sturme e Villa Serena. Emergenza Covid, ecco i numeri degli anziani delle case di riposo bassanesi che hanno perso la vita dal 20 febbraio scorso a oggi. Sono numeri importanti, solo nelle due ISAC bassanesi i morti sono il 20% dei positivi al coronavirus, 115 di cui 33 in isolamento. Il 5% della totalità degli ospiti, si parla di 454 persone. Situazione per niente rosea, neanche per gli operatori, perché 33 di loro sono risultati positivi. Questa è la situazione, seria, grave, che forse, come si è ripetuto tante volte nei nostri Tg, grazie anche alle testimonianze dirette di operatori e parenti degli anziani ricoverati, poteva essere arginata di molto se non evitata. Sarebbe bastata più attenzione, sarebbe bastata la presenza di un direttore sanitario che ben sapesse come gestire una situazione di emergenza medica, specialmente in un luogo dove sono concentrate centinaia di anziani fragili. E adesso di tutta risposta che fa il CDA delle ISAC, ha nominato due legali e ha affidato loro due distinti incarichi di querela nei confronti omissis e contro i gnoti, per quanto dichiarato anche ai nostri microfoni. Gente che ha avuto il coraggio di esporsi, seppur mantenendolo anonimato, per paura di ripercussioni nei confronti dei propri cari in cura, contro cui la direttrice e il CDA intendono agire legalmente. Un'operazione che costerebbe alle ISAC una cosa che supera i 10.000 euro. 10.000 euro che potevano essere stati usati per portare migliorie alle strutture e agli ospiti, soldi che arrivano dalle rette dei pazienti e che avrebbero potuto tutelare maggiormente gli anziani in questo periodo difficile. Invece vengono spesi per altri scopi.